Ciao bimbi! Vi parlo dalla mia capanna magica che adesso è diventata anche la vostra. Oggi faremo insieme le ombre. Dovete portare dentro un po' di cose che vi piacciono. Io ho portato una paperella, un bassotto, il mio orzacchiotto preferito e guardate un po' un grattaformaggio. Chissà se vedremo un bel cielo stellato. Siamo pronti? Prendete una torcia e puntate ai lati della vostra capanna. Ecco una paperella. Una paperella grande e una paperella piccola piccola e adesso un bassottino. Quanto è lungo questo bassotto? Ciao bimbi! Adesso vi faccio vedere il mio orzacchiotto preferito. E adesso guardate il cielo, chiudete gli occhi e adesso un bellissimo cielo stellato. Buon divertimento!